benvenuti in elo digital office sviluppiamo soluzioni software intelligenti che supportano la digitalizzazione dei processi aziendali e rendono più semplice ed efficiente il lavoro quotidiano siamo presenti in 17 paesi con 21 sedi 580 collaboratori e oltre mille business partner di tutto il mondo nulla è più certo del cambiamento nel 1996 iniziamo con l'archivio elettronico lights e con il sogno dell'ufficio senza carta in un decennio dominato da marchi del calibro di kodak nokia e blackberry con le nostre soluzioni software made in germany offriamo la possibilità di gestire in modo migliore le sfide della rivoluzione digitale in tal modo i vostri marchi continueranno a ricoprire un ruolo importante anche in futuro offriamo soluzioni di enterprise content management per la pubblica amministrazione le piccole e medie imprese e i gruppi internazionali per tutti i comparti e i settori in tutto il mondo abbiamo realizzato oltre 20.000 progetti e venduto ai nostri clienti oltre un milione di licenze chi desidera salvaguardare il proprio successo oggi e in futuro deve mettersi costantemente in discussione continuare a reinventarsi e precorrere i tempi deve offrire sicurezza mediante le innovazioni tecniche ma oggi questo non basta si tratta sempre più anche di fiducia con elo digital office e la sua rete di business partner potete contare sull'affidabilità di un team con una solida esperienza per guardare con sicurezza al futuro digitale perché lo sappiamo nulla è più certo del cambiamento